Quello che potremmo fare io e te In realtà ne avremmo fatto volentieri a meno Il fenomeno delle fake news compromette la credibilità dell'informazione E contribuisce ad aumentare la sfiducia nei confronti di chi genere i contenuti da condividere in rete Parliamoci chiaro La storia dell'umanità è piena di false verità Le leggende metropolitane hanno riempito pagine di giornale per decenni Le bufale si sono diffuse nei mercati e sui tavolini dei bar prima ancora che nascessero i computer Ma le fake news hanno un potenziale che le rende ancora più micidiali La rapidità di diffusione è la possibilità di renderle ancora più fake man mano che si diffondono sui social Un'onda che diventa uno tsunami di condivisione in condivisione Un'abbrezza che diventa tornado a causa delle suggestioni che vengono aggiunte dagli utenti che le diffondono Volete qualche esempio di fake news degli ultimi decenni? 4.000 lavoratori ebrei delle torri gemelle a New York furono avvertiti prima che avvenissero gli attentati Una signora è guarita da un tumore al cervello grazie alla dieta vegetariana L'aeronautica militare è in grado di controllare il clima grazie all'utilizzo di scie chimiche rilasciate da alcuni aerei Potrei continuare per ore ad elencare le fake news che riguardano tutti gli ambiti della società Dovremmo essere più accorti nel condividere le notizie Avere lo scrupolo di verificare le fonti Ma non è semplice Come possiamo affidarci alla ricchezza che il web ci offre senza diventare complici della strategia della menzogna? Ottima questa scheda per apparecchiare una conversazione che non vuole essere un dibattito Perché penso che ci sia un estremo bisogno di fare chiarezza E di invitare il pubblico all'ascolto a diffidare di molte delle cosiddette informazioni Che poi informazioni non sono che circolano in rete Ho voluto chiamare a raccolta due grandi direttori Uno che è il direttore dell'Ansa La più autorevole agenzia giornalistica di questo paese Che è Luigi Contu Direttore, buon pomeriggio! Grazie per aver accettato il nostro invito Non è un caso aver invitato insieme a Luigi Contu L'ex direttore dell'agenzia Ansa Ma direttore di Italia Oggi Pierluigi Magnaschi Buon pomeriggio direttore Buon pomeriggio Pierluigi Ho invitato due gentiluomini dell'informazione italiana Perché credo sia molto importante oggi rivolgersi al pubblico Direi uno E dire che tutto ciò che non è verificato Tutto ciò che circola in rete E che viene accompagnato da dati Che non sono ovviamente verificabili Insomma non solo va sottolineato e denunciato Ma non va frequentato Inizierei subito da Contu Che attraverso i take dell'agenzia Ansa Da modo alle radio, alle televisioni, ai giornali italiani Ovviamente di dare delle informazioni sempre verificate Come si può combattere Nel nostro piccolo, caro direttore Questo fenomeno delle fake news Che è inarrestabile E che attraversa e tocca perfino a volte Siti che hanno anche appurato negli anni Una loro credibilità Com'è possibile tutto questo? Beh diciamo è proprio il tema cruciale del nostro mestiere Del ruolo che noi abbiamo voluto prendere qualche anno fa Intanto se mi consentite fatemi salutare Pierluigi Magnaschi Perché se io oggi sono qui lo devo anche a lui È stato un mio grande direttore Quindi mi fa molto piacere trovarci qui insieme oggi E dicevo È veramente la sfida del momento Perché come avete ben detto nella scheda Fin dai tempi dei sofisti Della filosofia, del medioevo Le fake news sono state utilizzate dal potere Da chi ha voluto influenzare l'opinione pubblica A proprio vantaggio Ma la diffusione della rete e dei social Ha reso questo fenomeno pervasivo Pervasivo per i cittadini Pervasivo per le regole democratiche Per formare opinione Per distorcere la realtà In realtà non c'è purtroppo una grande difesa Se non quella del lavoro, della professionalità Naturalmente meno il tempo che è a disposizione Per verificare la notizia E più è difficile Però io credo che una cosa vada detta chiaramente Al netto del fatto che tutti noi proviamo Dalla mattina alla sera A verificare, ad essere presenti A controllare le ricerche, gli studi In tema di alimentazione, di salute, di politica Tutto in economia È un flusso di notizie Che ogni giorno va controllato e verificato Però i cittadini devono essere consapevoli Cioè le persone devono sapersi districare Soprattutto nelle piattaforme social Bisogna andare dove si sa che ci sono notizie verificate Verificabili Dove c'è qualcuno che ha fatto del lavoro per verificarle Io mi domando sempre Come mai quando in famiglia si ha un problema medico Si cerca il medico migliore Non il più simpatico, non il più bello, non il più carino Ma il migliore, il più sicuro, il più certo Mentre invece per trovare una notizia basta accendere un computer Un telefonino e qualsiasi cosa si legge La si racconta, la si condivide Come se fosse verità Attenzione, perché così si creano Dei grandissimi problemi Delle aspettative E delle vere e proprie manipolazioni Ecco, quello che dice Luigi Contu Direttore dell'ANSA È ancora più importante Soprattutto se si pensa Al lavoro fatto da Pierluigi Magnaschi Quando era direttore dell'ANSA E quando ancora non c'era, diciamo, la prepotenza Di quella che io chiamo la fiera della vanità Ovvero, diciamo, la dittatura dei social Perché sicuramente l'era digitale Ha portato un valore aggiunto all'informazione Ma ha anche tolto quella che una volta veniva chiamata Direttore Magnaschi L'autorevolezza Che oggi perfino in alcuni siti latita O sbaglio? L'autorevolezza, ad esempio Quando si parla di fake news Che tradotto in italiano in maniera più efficace Significa balle Più o meno monumentali Si fa riferimento ai siti Agli smanettatori, eccetera Io non sono tanto preoccupato da questo È che quando le fake news Le pubblicano i grandi giornali Cioè i grandi giornali Dovrebbero essere la pietra di paragone Delle informazioni sciamannate sul web Quando anche i grandi giornali Non diventano più affidabili E beh insomma Vengono a meno delle grandi certezze Per uscire dal generico Faccio un caso Ad esempio Uno dei più grandi fake news Cioè ballonari d'Europa È il presidente della Francia Macron E quando dico queste cose Non offendo nessuno Parto da dei fatti Ti ricorderai che a un certo momento Si scoprì che l'Ungheria Di Orbán Era diventato un paese nazista Perché aveva messo le mani Sulla magistratura Perché il governo Pretendeva di nominare Come ha fatto con una legge I procuratori Il più accanito Contro questa deriva In Italia Questa norma Non sarebbe possibile È stato Macron Solo che si è dimenticato Di dire che nel suo paese Questa norma vale dal 1854 Non solo Ma la prepotenza Del governo francese Sui suoi magistrati Si esercita Attraverso la nomina Dei procuratori Da parte del ministro Di grazia e giustizia Mentre il nazista Orbán Prevede che la nomina Passi attraverso Il Parlamento Con una maggioranza Del 70% Quindi vuol dire Che le minoranze Del Parlamento Ungherese Limitano la maggioranza Di quel paese Ecco questa È una Delle balle Di Macron L'altra La vogliamo vedere C'è l'incendio Della foresta amazzonica Per Macron Il responsabile È Bolsonaro Il quale Approfitta Di questa Occasione Per liberare Del terreno Togliere C'è quello che Nei giorni In cui Macron Faceva queste accuse Stava andando A fuoco Tutto il sud Della Francia Se Se Bolsonaro È responsabile Degli incendi Allora Nel suo paese Chi è responsabile Degli incendi In Francia Non solo Ma oggi Mi è arrivata Una cartina Sugli incendi Nel mondo Fatta dall'ONU Grande organizzazione Quale precisa Che ci sono Degli incendi Spaventosi Non solo Nella foresta Amazzonica Ma in tutto Il sud Africa E persino In Siberia Vogliamo darle Queste informazioni Altro caso Hai pienamente ragione Direttore Vorrei Aggiungere Una domanda Ad entrambi Perché tra poco Ci collegheremo Con il collega Francesco Giorgino Dal Tg1 Per gli aggiornamenti Sugli ultimi sviluppi Della politica Quali sono gli strumenti Direttore Contu Che un cittadino Che un telespettatore Che in questo momento È collegato Con questa trasmissione Può avere Per difendersi Diciamo Dal danno Che le fake news Possono fare A colui Il quale Magari Leggendo Un sito Sta tentando Di approfondire Una notizia Ma Diciamo Se si tratta Di informazione Generale Al netto Degli errori Di cui parlava Pierluigi Che ci sono Sulla stampa Ci sono sempre stati E c'è da augurarsi Come dire Che non siano volontari Il cittadino Deve trovare Delle fonti certe Cioè Deve andare Nella rete Come se andasse Per strada Deve trovare Una farmacia Che sia una farmacia Quindi che sia Una fonte Che sia una fonte Registrata Che abbia un direttore Responsabile Insomma Se io sbaglio Una notizia Pago penalmente Posso essere querelato Posso essere denunciato Posso essere espulso Sospeso Perché ho una responsabilità Diretta Sul web Nelle google news Piuttosto che su facebook Non c'è questo Quindi Se c'è una responsabilità Dietro Il cittadino Sa che c'è qualcuno Che rischia Che quindi È costretto È doveroso Che controlli Questo può essere Un primo passaggio Ma poi Non c'è niente da fare Non si scappa Lo studio L'approfondimento Se si legge Una ricerca scientifica Su un nuovo prodotto Una cura Si vada dal medico Si ragioni con il medico Si vada da chi ne sa di più La società è fatta Di competenze Di crescita Di approfondimento Non si possono Prendere le informazioni Così Come vengono Altrimenti Rischiamo tutti La strada per difendersi È la competenza Ha sicuramente ragione Il direttore Contu Direttore Magnaschi Come possiamo Difenderci Da tutto questo E tentare In qualche modo Anche di contagiare Il pubblico All'ascolto Nel verificare Sempre l'attendibilità Di una notizia Uno Ho avuto l'onore Di dirigere Per quasi dieci anni L'ANSA Ho la gioia Di vedere Che un mio Autorevolissimo Giornalista Ne è diventato Direttore Il metodo Dell'ANSA È straordinariamente Efficace Perché non si pubblica Una notizia Senza Averla Verificata Nel momento Del web Questa precauzione Viene un po' insidiata Perché il lettore Vuole la notizia subito Se uno E quindi toglie Alle istituzioni serie Come l'ANSA Che veramente Avendola praticata E non essendono più direttore Quindi posso parlarne bene Senza farmi pubblicità Ecco Devo dire Che se uno vuole andare Su dei siti Vada su un sito serio Che è quello dell'ANSA Anche gli altri Saranno seri Ma quello è più serio Degli altri Ma questa È una È un'azione È un atto Molto generoso Tra due direttori Che si sono passati In È un'azione